Il segno dell'acquario è una luna che diventerà interessante nella tarda serata, ancora una luna che vi rende un po' troppo malinconici, insicuri anche rispetto alle cose da fare in questo periodo. Giove ha appena iniziato il suo transito in bilancia, quindi cercate di prendervele anche un po' comoda, amici dell'acquario, non è che dovete fare tutto subito. E' arrivato Giove in bilancia, bisogna buttarsi a capofitto nuove esperienze. Ogni cosa a suo tempo, ve lo suggerisce anche questa luna, sognatrice, ma certe volte anche una luna che può farvi sposare delle illusioni, ok? Quindi poi il risveglio potrebbe essere traumatico, mi raccomando. Chiudiamo con i pesci.